E' un patato, un mischio! Hai ricevuto una lettera interessante! Possiamo leggere? No, no, no! Perché? Perché lui è il mio migliore ragazzo! E perché tu e lei non ha la ragazza! E lui non va bene! Oh, piazza! Oddio! Oh, boy! Andiamo! Pioggia! Pioggia! O che! Puoi? Tu è edita! Siccassi! Talvez se facci le fang singe, possiamo tirare un genuino?